buon pomeriggio amici ed eccoci qua al magico ristorante albergo Gabà qui a Borno se guardate attentamente spettacolo eh c'è un po di nuvolo sono qua oggi in una bellissima giornata non non di meteo una bellissima giornata in compagnia con la mia scuola music beauty dove stasera poi ceneremo e canteremo fino a tardi sera è buono ragazzi ci vediamo dopo e godetevi le immagini grazie a tutti ciao Stefano adesso non puoi imprendere perché mi hanno fatto i soldi ma si grazie grazie ciao ciao buona serata ciao ciao Grazie a tutti. Sì, è che? Mamma mia, adesso mi si vede le ucchiaie. Le ucchiaie e le ucchiaie. Ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao Pamela. Ciao a tutti. Cosa provi allora di questa bella esperienza stasera cantando e tutto? È stato bello ritornare a un po' di normalità perché comunque mascherina e tutto è stato proprio bello, molto piacevole. è strano perché ritornare dopo un anno e mezzo ma provare un po' è brutta è stato bello, bello. sarà perché mi ha guardato come nessuno mi ha guardato mai. è stato bello. È stato bello. 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 è un ambiente molto bello trovarsi tutti insieme a una brigata. bello. Io non ho cantato perché sono distrutto stasera però mi piace ascoltare anche gli altri che cantano. certo certo. Amici grazie a voi da Matteo. Ciao. E Stefano dalla Music Beauty a voi. Bello. 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 Sì. E Stefano. Sì. this is. Bello. bisognava anche la vostra, una giusta di parlare. Siamo qui con il magico Domenico, che cosa rappresenta questa serata in questa cornice dopo tanto tempo per questione di covid, di ritrovarci cantando e mangiando ovviamente cosa esprimi su queste emozioni secondo te Domenico? Stasera è stata proprio una bella serata e ho visto tanti amici che un anno e mezzo che non vedevo però bellissima serata, abbiamo cantato, ci siamo proprio divertiti ci sono anche molte persone fantastiche in questo gruppo C'è un po' di raffinare molto bene, ma come se lo sanno Sì Io come te Vivo confusa Palme rosa Non chiedo più Grazie perché Mi hai fatto sentire Che posso più volare Senza di te Con me L'Alice Che ha una voce Secondo me veramente favolosa Alta E non so Dimmi te Alice Come aspetti questo grandissimo metodo Ritrovo di noi compagni Qua nell'albergo Per almeno prima volta Era un anno che Aspettavate Da prima Aspettavate che scriveva Mi toccava Finalmente se l'avevo fatta Ottimo Bene adesso Toccherà anche a lei Come toccherà anche al sottoscritto Però ci proviamo ecco Sentite Questo è tutto lo spettacolo di stasera ragazzi Alice Stefano A voi ragazzi A dopo Sottoscritto 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 e Vai Katia! Eccoci qua ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa bellissima serata qui all'albergo di Borno, in presenza ho la direttrice di questa magica scuola, la music beauty, Michela Bosio. Tutto benissimo, grazie perché dopo un anno e mezzo finalmente siamo riusciti a fare qualcosa, è stata un'emozione monica, quindi grazie Stefano per essere stato presente anche tu, è stata un'emozione fantastica, dopo un anno e mezzo ci sembrava un po' di libertà e un po' di vita, quindi grazie e viva la music beauty! Sempre, anche a voi amici, grazie a voi! Ciao! Ciao!